Conoscivo il significato della felicità. Quell'albero me l'ha spiegato tantissime volte, senza dirmi nemmeno una parola. Quando giocavo con lui mi sentivo protetto, come se facessi parte di una grande famiglia invisibile, dove tutti sono importanti e hanno qualcosa da offrire. Un giorno l'albero mi ha detto che il vento lo aiutava a far cadere le sue foglie, perché sulla terra c'è bisogno di calore. Io sono diventato triste. Non c'era più la grande ombra che mi faceva sentire sicuro. Perso, deluso, arrabbiato, sono fuggito lontano. È da quel giorno che il mio egoismo ha preso sopra me. Just play in day, and the heat is on. And your hands are stick, and get it on. Don't be so gentle, don't be so pleased. Tell on those bad ass, let it be. Da allora ho cominciato a cercare, senza avere nemmeno una vaga idea di cosa stessi cercare. Ma andavo avanti, senza mai voltarmi. Non c'è bisogno di calore. Non c'è bisogno di calore. Boy, if you can, and say your story, you'll have no hands. Well, that's your story, it's got to be true. Because your story, it's got to be true. That's no easy. Well, that's the truth. Il solo pensiero di rimanere da solo mi terrorizzava. Mi terrorizzava. Just play in day, so you're so sweet. Mi ero convinto che la felicità la si poteva solo comprare. Beh, sì, bastava guardare intorno e vedere tutta quella gente su quella grande giostra girare. E dopo aver sudato quel dannato biglietto, un paio di giri me li sono fatti anch'io. Non mi fermavo mai, perdendo completamente di vista. la mia identità. Gianni! 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 Documenti! Carboni! Bye, Gianni! Sì. 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 Oh, ma che cazzo c'ha? Ma secondo me quella macchina lì non ce la fa più. No, questa macchina deve andare ancora. Vabbè, lasciamola riposare un po', va? Magari si ripiglia. Non mi può abbandonare proprio adesso. Devo prendere il capannone nuovo. No, no, te lo dico io, quella deve andare altri dieci anni. Se domani troviamo un accordo tra quattro mesi siamo nel capannone nuovo. E dopo vedi come cambia. Cazzo. Pronto? Senti, domani pomeriggio devi accompagnare il tuo figlio di citazione perché io ho una riunione importantissima che non posso portare il capannone. No, domani non posso, un appuntamento con l'agenzia immobiliare per il capannone. Chi è che è importante? Con il figlio del capannone. No, di qua. Dai, ce la fai o no? Ma io non ho parole. Sei il solito dovuta del cazzo. Senti, non so cosa dire. Organizzati prima. No, allora. Uno, mi devi ancora i soldi del mese scorso che non mi è ancora adatto. Due, un montato del cazzo che penso che con due lire in più ti possa diventare... Sì, va bene, ho capito. Sarò lì la solita ora. Dai! Gatto, lo sapevo! È quella stronza che mi porta sfiga. Vabbè, dai, ne vado a prendere un altro. Dove ho comprato questa macchina anni fa. Conosco il titolare, Forgoni, una persona in gamba. Sai cosa diceva? Che per essere qualcuno nella vita devi avere soldi, carattere e potere. Bine è casa della minha figlia con un gamba. Allora tomade e panaca è che ogni sammine per a vorrecu Grazie a tutti Grazie a tutti Salve Scusi lei dove va? Sono venuto a prendere un pezzo di ricambio Parcheggia là Gianni? Gianni? Bruno! Anche tu i capelli bianchi? Eh, gli anni passano per tutti E tu Bruno? Certo che avete fatto un bel cambiamento qui Eh, non hanno cambiato soltanto l'arrivamento È lei che ha preso il controllo di tutto adesso Hanno lasciato a casa un sacco di gente Comunque Bruno, io avrei bisogno di sostituire Il polmone della leva stallonatrice Temo però che non troverai il pezzo Tengono soltanto i pezzi degli ultimi modelli Riparare... Riparare... Come sei? Lì Scusate che è un duplice Allora? Abbiamo la distribuzione che lamenta lentezza Nella consegna dei semi lavorati Le scadenze fissate sono state misurate Dall'ufficio produttività un anno fa Non c'erano problemi allora Non vedo perché adesso Perché le consegne sono state appaltate Una controllata che non sta rispettando le scadenze Io faccio quello che posso ma non... Abbiamo fissato precise penali Bini Faccia rispeccare le nostre regole Ma io non posso scavalcare il manager Che sono qui da più anni di me Qui in questa azienda L'indispensabile ci sono solo io Bini Con me Ma spiegami Bruno Un uomo azienda come... Lo so Mi hanno messo al centralino Ma guarda Fra un anno vado in pensione E non rimpiango nulla Tutto quello che ho imparato in questa azienda Lo devo al signor Forgoni Bruno Non so se hai notato Ma non sono nel mio ufficio Quindi per la prossima mezz'ora Non mi passi le chiamate E quante volte le ho detto Che non voglio pezzi di ricambio nel lavoro No mi scusi È che una volta si veniva qui per il ricambio Bini ci pensi lei Sì mi dica Sì avrei bisogno di... No guardi questa è una giornataccia Si faccia dare la mail del signor Bruno Le faremo avere il nostro proposto commerciale Grazie Grazie Sì ma ce l'avete già la mia mail Non è la prima volta che vengo Lo so Gianni lo so Però Gianni guarda Un consiglio Cerca Gianni cerca Di qualcosa trovi Ciao 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 Sì, infatti, dai, è una vita che non ci vediamo. Non sarai mica controllato a vista. Sì, sì, io ho deciso, lo prendo. Faccio il passo. L'ho chiamato per prendere un appuntamento. Domani vado. Mi ha detto che ci vediamo davanti al capannone. Ah, a me piace. Sono 400 metri quadri. Ma quello che mi piace di più è la posizione. A sentire in giro sembra un'agenzia molto affidabile. Lui si chiama Giancarlo. Ma allora lo conosci. Sì, 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 infatti, vuole che lo chiami Giancarlo. È un grande. Oh, da come parla mi sembra un tipo in gamba. Lui ha capito tutto nella vita. È certo che faccio sul serio. Mi sono rotti i coglioni di arrivare alla fine del mese e rendermi conto che ho dato tutta quella stronza. Sì, per non parlare poi di mia figlia. No, quella officina ormai non mi rende abbastanza. Mi sta stretta. Oggi per funzionare devi rinnovare, spendere, far girare i soldi anche se non li hai. Ma è un concetto economico che oggi lo sanno anche i porci. Dai! Ma di quale percorso mi stai parlando? Dai, non scherzare. Ti sto parlando di cose serie io. E questa è da dove cazzo l'hai tirata fuori? Sì, va bene. Ok, ciao. Ciao, ciao. Il mio percorso. Il mio percorso. Il mio percorso è il mio percorso è il mio percorso. Il mio percorso è il mio percorso è il mio percorso. Il mio percorso è il mio percorso è il mio percorso. Gianni! Ehi, Gianca! Carissimo! Ti vedo bello tonico. Dai che oggi scriviamo la tua storia. Poi magari se ci scappa ti offro qualcosa in un localino che lascia stare. Senti, Gianca, il parcheggio c'è tutto, però qualche lavoro sugli esterni bisognerà farlo. Stai scherzando? Questo è un oggettino che è un gioiello. Chiaro, c'è l'affari, quindi bisogna saper leggere le potenzialità e il business. Capisci? E poi lo sai anche tu che qua con una pulitina e una rinfrescata sembra San Diego. Dai, dai che ti faccio vedere dentro che sono tiratissimo con i tempi. Gianni, questo è un oggettino che per quello che è viene via niente. Sono 400 metri quadri che se vuoi ci salta fuori anche un settore tagliandi e meccanica. Gianca, io faccio il gommista, dovrei trovare un meccanico, attrezzare... Restami in tiro, cazzo, Gianni, restami in tiro! Adesso devi pensare in grande, bacchelova, e non sbavare. Gianni, qui c'è da fare i soldi veri. E infatti, è l'altro, il magazzino, il tuo mega magazzino vincente, Gianni. Ma che cazzo stiamo qua a parlare? Dai, dai un'occhiata in giro che faccio una telefonata. Sì. Perfetto, ciao, 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 ciao. Gianni! Congratulazioni! Ho sentito l'uomo della banca. È tutto a posto, passi di là, firmetta, cash, e si decolla. Mi raccomando, oggi è le 17 da notario. Ok. Gianca, allora ti seguo, però ci tengo, pago io. Cazzo, Gianni, è tardissimo, ho un appuntamento col mio personal coach. Per l'aperitivo facciamo la prossima. Ah, Gianni! Sì? Ho P, eh? Com'è? Operativo! No! No! You hear the rumbling, they're down in the ground. You hear the rumbling, they're down in the ground. No, it must be the devil Turning my weaving round Must be the devil Turning my weaving round Grazie, buona giornata Buongiorno Buongiorno Ho un appuntamento con il signor Sassi Sì, certo, ti devo dire Gianni Ah, Gianni Piacere, finalmente la conosco di persona Io sono Silvia Piacere Immagino che lei abbia bisogno del signor Sassi Eh sì Vi dialoghiamo subito Sì, grazie È arrivato Ho preparato tutta la documentazione La banca Sissi ha deliberato con esito positivo La pratica del suo mutuo Bene Sì, sì, sì Mi servirebbe un suo documento in città Grazie Un minuto e sono subito da lei Grazie Adesso ci manca soltanto qualche piccola firmetta Qui e qui Buongiorno 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 Allora, signor Gianni, l'aspetto alle ore 17 dal notaio per concludere la transazione. Arrivederla. 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 Non sappia perdonare lei. Forgoni, cosa ci fa? Devo farmi perdonare da tutti per quello che sono stato, per quello che ho fatto e per quello che non faccio per riparare. Che cosa le è successo? Ha visto la mia azienda, ha visto quanti capannoni. Ho visto, è una grande azienda. E i suoi figli si danno da fare? Sono ciechi, sono matti. Credono di essere i protagonisti della società. Perché? Cosa le hanno fatto? Non mi dica che l'hanno cacciata. Ma che gliel'ho data io. E questo le dà fastidio? Certo! Questo aumenta la mia colpa. Ma non capisci? Questo produrre montagne di rifiuti, inquinare, distruggere, costruire enormi gabbie per questi poveri schiavi ricattati da un sistema assurdo. Stanno spavendo le ronde, le api. L'ha visto? Sì, sì, sì. E venga, Forgoni, prendiamoci un caffè. Le svelo il segreto della colpa. C'è una bolla di menzogna che sta conquistando il mondo. La grande menzogna. Ci sono 200.000 famiglie che detengono il potere su 7 miliardi di persone. L'informazione! Questi manipolano il sapere, costringono il sentire, impediscono il pensare ed il volere. Capisci, giovanotto? Capisco. Hanno vinto loro. Ma è sempre stato così. No, non è vero! Ci sono stati uomini liberi, integri. Ci sono due modi per capire. La saggezza del conoscere e la violenza del dolore. Lei sa perdonare? Non lo so. Dovrei pensarci. Bravo! Pensi! Continui a pensare. Pronto? Buongiorno, sono il bidello dell'istituto Manzoni. Ah sì, buongiorno, mi dica. La chiamo per conto del preside. Vorrebbe parlare con lei di sua figlia. Perché? È successo qualcosa? Non si preoccupi, è solo un colloquio. E poi mi scusi, come faccio a capire il significato della parola perdono? della prende. Generalmente! La storia! Lasciugna dalla lavora perdona! Lasciugna dalla lavora perdona! Si è un assunimento rosa, non lo so! Vai ficando per la THAT zawsze! Quai tutti? Pronto? Gianni, dove sei? Guarda, è indispensabile che tu venga Sì, lo so che l'hai già visto Ma bisogna che ti metti nell'ottica adesso Devi pensare in grande È quando si pesce in grande che si fanno gli affari Compri di più, compri di meno, capisci? Guarda, pensa alla coincidenza Ho un amico che vedi impianti per allestimento capannoni E ne ha uno usato un cazzo che vi è in via niente, vada Dio Guarda che hai del culo, eh? Dai, vedi se riesci a passare a prendere tuo figlio più tardi Passi di qua, te lo presento senza impegno Poi decidi tu Gianni, Gianni, lo so che la famiglia e i figli sono importanti, per carità Ma qui si tratta di entrare nell'ottica Non si fanno i giochini per i numerini Qui o sei in o sei out, cazzo Ecco, ecco, vedi? Bravo, 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 ok, ok Allora ti aspetto Grandissimo Ok, ciao, 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 ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao papà Ciao Sei già fuori casa? Sì, ti sto aspettando Sì, lo so, è che devo andare a vedere un capannone, sai quello di cui ti parlavo? Oh, un giorno ti ci porto, è bellissimo, lo devi vedere Tanto lo sapevo che non saresti venuto Fai sempre così Chi te l'ha detto? Tua madre? No, lo sapevo Fai sempre così Senti Ormai sei abbastanza grande per capire che lo sto facendo anche per te Per vivere bisogna lavorare Come credi che faccia tuo padre a comprare tutte le cose che ci servono? Sai anche i colori per i tuoi quadri Mica crescono sulle piante Credi che mi diverto io ad alzarmi tutte le mattine a inseguire i soldi? E oggi l'equitazione Quel cazzo di cavallo mi costa una cifra Equitazione piace alla mamma Non lo sapevo che c'entrava tua madre Ho passato 14 anni Spento a lavorare e tirare la carretta tutti i giorni Per pagare le ferie, i debiti in banca, casa e lavoro E adesso che finalmente è arrivato il mio momento Figuriamoci se non vi dovevate Anzi se non si doveva Mettere di traverso Ormai sei abbastanza grande per capire che il mondo Non è andare a cavallo o impiastrare tele con i colori Il mondo è crudele E va in fretta E non aspetta chi rimane indietro e non tiene il passo E ormai dovresti cominciare a pensarci Perché poi non c'è più tempo E al mondo sta bene solo chi ha un pacco di soldi Lo vuoi capire? Non chi si riempie la testa con inutili voli Pindarci o altre storie Lo vuoi capire? Che al mondo non gliene frega niente Il mondo va in fretta Ok? Sì 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 si buongiorno signor gianni il preside la sta aspettando chi sono il bidello dell'istituto manzoni si si arrivo arrivo va bene va bene va bene dai merda e e e e e e No, 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 no. It's posted. Second me, I think there's a lot of tea. Grazie. Ciao Gianca, come va? Allora caro, restiamo operativi. Il piccione è tardi e a momenti volava via. Fortuna che sono un fuoriclasse. Certo, fortuna per te. Guarda che sto lavorando anche per te. Di che cifra parliamo? Guarda, l'impianto è praticamente nuovo. Si tratta di aspirazione e impianto pneumatico. A me non me ne frega un cazzo di cosa gli vendi. Quello è un lavoro tuo. Voglio sapere che cosa ci prendo. Capisco che sei all'inizio. Ci sono passato anch'io, sai. Facciamo così. Per questo giro mi accontento del 5%. Poi magari il prossimo lavoro che ti piazzo, ricupero. Ma io ci prendo l'8% scarso. Tolto le spese e se do il 5% a te io ci perdo. Ma bisogna investire per accogliere piano piano, con pazienza. Poi magari ci troviamo bene. Prendiamo un altro lavoro, mi dai il 6%, a te resta il 2 e fai girare la palla. È così che funziona. E falla girare, dai. Non è mica per i soldi, è solo che giro, giro e alla fine non ci prendo un cazzo. Voglio dire, che senso ha? Qui tutti se la spassano a me tocca fare le consegne in macchina per saltarci fuori. O mandare un pezzo alle 10 di sera perché hanno sbagliato a spedirlo. E che cazzo, io la sera o un'altra vita? Sbagli! Intanto il lavoro è lavoro e i soldi sono soldi e vanno presi quando passano. E poi tutti abbiamo fatto la gavetta. Qui si tratta di investire su se stessi, di alzare l'asticella, di pensare in grande. Tu sei la tua azienda. A rotta i clienti, se per prima metterglielo il culo che è in testa, hai capito? Ci tieni a questo mestiere? Sì. E allora pensaci. Buongiorno, ho un appuntamento con il prezzo. Ah, quello della telefonata. Ho capito. Posso andare? Sì, vada pure. Dei pedagoghi da strapazzo hanno dichiarato che per fare un mondo migliore basta evitare la violenza nell'allevare i cuccioli d'uomo. Come se il mondo fosse buono. Come se non fosse crudele, competitivo, feroce, egoista. In questo modo i loro rampoli sono impreparati a cambiare il mondo. Ha fatto qualcosa di sbagliato. No, no. Sua figlia è impegnata, diligente, creativa. Direi fortunata se vivessimo in un paese dove gli artisti vengono considerati un capitale e non dei rompicoglioni. Sua figlia ha tutti i sintomi per diventare un artista. Sente, capisce? Si fa carico del dolore altrui. Vuole sapere il perché. Cerca nei linguaggi espressivi il modo per aiutare gli altri. Sì, in effetti è sempre stata molto sensibile. E questo è il problema. No, no. Il problema è lei. Che cosa ha fatto? Cosa farà? È questa la scelta. Perché? Quale problema si pone? Perché sua figlia può diventare un artista e decidere di soffrire tutta la vita per sentire e trasmettere delle emozioni che servono agli altri. Allora diventerà famosa. Ma non sia sciocco! La fama la fa il mercato! La gran massa ignorante, tutta concentrata su dei particolari insignificanti, fa delle scelte obbligate e indotte da coloro che detengono il potere. La chiesa cattolica e la massoneria. E io cosa ci posso fare? Niente. Lei è una vittima, un teleguidato, una pecora da tosare che subisce i capricci di queste divinità. A meno che... La peccora qui di fronte la smetta di farsi tosare. Non tutte le cose che ha un uomo fanno di lui un uomo, se dipende da essi. La chiesa cattolica e la massoneria. 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 Ehi! Ehi! A te! Sì, proprio a te! Che cosa aspetti? Diventa un vincente nella nostra banca, sì sì! Qui non si tratta di soldi o conti finanziari. Quelli sono solo noi. Sì, il tuo successo. Scegli la tua banca, sì sì! Che cosa aspetti? Non va? Diventa un vincente nella nostra banca, sì sì! E come non va? Vuoto! Sì, ma io devo fare nafta! Quindi non posso fare rifornimento? Non qui. E presto neanche altrove, credo. E quello smontagombe funziona? Sì, ma è mio. Ho appena preso. E dove l'ho preso? Dai, frati! E dove li trovo? A ovest. A ovest. Sì, ma a ovest dove! Sì, ma a ovest dove! Sì, ma a ovest! Sì, ma a ovest! Sì, ma a ovest! Sì, ma a ovest! No! Mi sono liberi di ridere e cantare Sì, ma, mi sono liberi di ridere e cantare Cazzo il gianca! Benvenuto, fratello, benvenuto! Ti aspettavo, ti aspettavo, sai? Stavo cercando un ricambio per lo smontagombe. E ti devo chattar che tu pesa! Mi hanno detto così! Stavo lì, credere fa vincere! Tu sei vincente se credi! Io e i miei fratelli, siamo tutti vincenti, non abbiamo niente. Ma ci perdoniamo sempre, sempre ci perdoniamo, sempre. Amo questo posto di merda, dove ci sono più zanzare che pensieri. Amo questa terra cattiva! Dei poveracci hanno dato la vita, pensando di possederla un giorno. Ora non la vuole più nessuno. La lasciano a noi, sperando che lavoriamo. Dov'è? C'è rimasto poco, ma comunque se trovi ancora che dirlo bene, puoi prenderlo. Grazie, comunque ve lo parlo. Ma non parliamo niente, ma no, ma no! Siamo qua per incontrarci con lo spirito, per comunicarci, siamo i capari commercianti. E poi? Il valore, come facciamo a stabilire un valore? Io potrei avere un rapporto sentimentale, tu offrirmi del denaro. E poi? La mia roba nostra. La srubacchiamo qua e là? Hai capito? E' buono. Al giorno d'oggi la società è basata tutta sul furto. Io rubo le trucchie. Tu rubi? Io ruberei persino le stelle al cielo. C'è che devi stare lì giù. Hai toccato qualche tua bella o no? No. Andiamo. Il segreto sta nel partire dal buco del culo per salire. Non sono come le persone che hanno nel buco del culo il centro delle loro preoccupazioni. Non in senso metaforico, in senso fisico. La prima inebizione che ricevi dai genitori è imparare a cagare nel vasino e dopo rimane nell'inconsio. Conosci l'inconsio fraudiano? Vagamente. Ma cosa reggi quando hai il cesso? Niente. La faccio e poi mi pulisco. E non la gusti? Ma non ho un gran tempo. Effettivamente non ci ho mai pensato. Oh! Ma come farai? Come farai, fratello caro, a raggiungere la perfetta Letizia se trascuri il primo dono che l'intelligenza ti ha dato. Non sono un busone. Ti ha paura però adesso un fnoio? Non si tratta di busonneria. Si tratta di capire perché lo spirito ha messo piacere nelle funzioni fisiche e ragione. L'intelligenza ci fa migrare verso il piacere. Vedi che si usano di più il buco del culo e annessi e connessi della ragione? Si parte ragionando sul buco e poi si sale il cervello. A me a pensare troppo mi viene il mal di testa. Per forza. Non sai cagare e allora non sai pensare. Pensare un piacere, come lo sono amare, gioire, contemplare, vedere, perdersi nella gioia di vivere. L'esercizio serve a far durare questi attimi. Per questo noi ci esercitiamo il giorno e anche la notte scagassando qua e là. Ma voi siete matti. Bravo, siamo liberi dal buco del culo. Prendi quello che ti serve se lo trovi che mi ha su contente. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Cazzo l'ho preso. Adesso mi passa. Allora, allora, io vado. è sicuro di stare bene. avanti. perché la tua. la natura? vorresti conoscerla? No, io voglio, io voglio, io voglio, io voglio solo tornare e sistemare il mio cazzo di smontagomme. cazzo, ma è tardissimo. io ho un appuntamento, io ho un appuntamento. cazzo, io ho un appuntamento. e io ho un appuntamento. di questo, questa razza di... ha deciso, io ho un appuntamento. ha deciso, io ho un appuntamento. ha deciso, io ho un appuntamento. e questa cosa, io ho un appuntamento. 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 bene. io ho un appuntamento. io ho un appuntamento. io ho un appuntamento. io ho un appuntamento. pericoloso per la solidità delle nostre regole. Gianni, dove stai andando? Vieni, entriamo da dietro. È qui? Adesso però sei tu che mi hai rotto i coglioni. È la tua vita che mi hai sopplicato. Tu lo sai quello che è giusto. Ma che cazzo ti aspettavi? Una casetta di Walt Disney? Ragazzo mio, la tua vita ti sta chiedendo di vivere i tuoi pensieri al di fuori di un paninsesto televisivo. Sì, ma... E se il pensiero non è in linea con quello che gli altri credono sia giusto, per te cosa cambia? E non dirmi che ti preoccupi per gli altri adesso. Quello lascialo fare che hai già salvo. E adesso, visto che sono la variabile impazzita della tua vita, stai zitto e seguimi. My baby's got a new black man. Hey, slinky witchy eyes. I'm sure I'm out of control and you know, please. Please give me your mama. Sai chi c'è di là? Chi? Ray. Oh! Ray, bentornato. Allora come vanno i tuoi studi su quei vecchi eventi cibi? Ti presento Gianni. Però noi siamo venuti per vedere lei. Massimiliano, ma un amico di Ray può chiamarmi Baxter. Piacere, Gianni. Ray, sai come funziona? Ma in questo momento stiamo per iniziare lo spazio. Bye! Certo che qui, con un po' di grana, mi sa che si riesce felice e leggeri, eh. Ma quindi tu dimmi, sei uno di quelli con il grilletto facile, in cerca di un banco ma dove incassare? Ma che bello! Ma sai che cosa penso io? Che soltanto una mente misera come la tua poteva partorire un pensiero simile. Noi facciamo arte per divertirvi, non facciamo altro. Decidiamo noi chi sale sulla nostra giostra e tu, caro mio, hai appena perso il giro. Crescino. Il perfetto orario. Strano, non capita mai. Alla fine del prossimo numero sai dove trovarla. Signore e signori, questo è uno spettacolo d'arte varia, come direbbe qualcuno. Io sono qui, o forse no, ma voi ci siete. Perché siete qui? Un volo attraverso le gabbie di sistema dentro cui si cresce fino a occupare tutto lo spazio interno alle sbarre. Sbarre che voi non vedete, ma percepite. Eh già, lasciatevi andare perché sta per arrivare qui con noi, signore e signori. Noi vi diamo. Noi vi diamo. Noi vi diamo. Noi vi diamo. Grazie a tutti. Si sente niente? Magari disturbiamo. Spostati, lei c'è sempre. Beh, io vado, eh, dai. Ti ho portato un miscredente, un teleguidato. Lo so, nulla accade a caso. Tutto ha uno scopo. Questo lo sai anche tu. Ma sentiamo da lui cosa ne pensa. Aspetta, dove vai? Su, vai, su. Vieni, accomodati. Lei è veramente una strega. Come tutte le donne che si conoscono. Quindi non sono stati quei vecchiacci a condurti fin qui. Sei tu che hai voluto tutto questo. Perché me lo sta dicendo? Perché sento le tue emozioni che vogliono uscire. E una giovane strega molto vicina alla tua vita ti ha dato un piccolo aiuto. Lasciati andare, Gianni. Dimmi. Davanti a lei mi sento come... come un bambino. Mi piace stare qui con lei. Come quando ero innamorato. Perché non sei più innamorato? Forse lo sono ancora. Ma non me lo ricordo più. E mi dispiace. Prova a perdonarti. Vedrai. È semplice. Come back to my old onesie. Come back to my old onesie. Where my blue year flows. Where my hot tea is waiting. Well, I'm coming back home. Oh, come back home. Oh, come back home. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501